Il Consiglio regionale della Toscana per una seduta straordinaria dedicata al conflitto in Ucraina. È la piccola risposta, ha detto il Presidente del Consiglio Antonio Mazzeo, che possiamo dare ai fatti drammatici di questi giorni con un messaggio di pace, di civiltà e di umanità. Tutti in piedi per un minuto di silenzio per ricordare e celebrare le vittime della guerra in Ucraina. È cominciata così dopo l'invito a raccoglimento rivolto ai consiglieri dal Presidente dell'Assemblea Legislativa Toscana Antonio Mazzeo, la seduta straordinaria del Consiglio regionale dedicata al conflitto, in aula la bandiera dell'Ucraina e quella della pace. È evidente che noi dobbiamo essere molto attenti come Europa alla situazione in Ucraina, perché l'Europa vive l'Ucraina come il baricentro, il cuore del vecchio continente. L'identità dell'Ucraina come popolazione e come nazione, assolutamente indipendente da qualsiasi gioco, a partire da quello prima sovietico, oggi di aggressione russa, è palese nel comportamento, nelle dichiarazioni, nei modi di essere. Ecco, quindi oggi la necessità di lavorare per accogliere gli ucraini profughi, il ragionamento che sempre più si fa è che arrivano in queste interminabili code al confine le famiglie ucraine, di qua dal confine viene la moglie e i figli, di là il padre che li ha accompagnati prende parte per combattere. È qualcosa di commovente, come è qualcosa di drammatico vedere i bombardamenti che abbiamo visto sulla televisione anche stanotte. E quindi dobbiamo essere davvero vicini a queste famiglie, saranno in prevalenza donne e bambini che arriveranno. Noi le accoglieremo negli alberghi sanitari. Ancora, diciamo così, il senso dell'accoglienza si è sviluppato nei paesi confinanti, e conseguentemente Polonia, conseguentemente la Romania. Non c'è ancora un vero e proprio arrivo di Ucraini. Non ci dobbiamo aspettare una situazione tipo quella dell'Afghanistan, quando eravamo con i nostri aerei a organizzare l'arrivo e quindi ben a programmare. Ce li dobbiamo aspettare da un momento all'altro, perché magari arrivano con un pulma che chissà chi guida, con forme assolutamente non conosciute con cui arrivano qua, ma a quel momento dobbiamo essere pronti. E noi, utilizzando quelle strutture che avevamo fatto per l'isolamento dei malati di Covid, ma il Covid sta sempre più decrescendo e quindi non vi è questa utilità, le utilizzeremo per i profughi. L'ho richiesto con forza, perché oggi bisognava che venissero fuori tre cose fondamentali. La prima, no a questa guerra che fa male, che fa male alla popolazione ucraina, ma fa male anche ai valori della democrazia e della libertà della nostra Europa. Dire e dare sostanza alla popolazione ucraina, alle cittadine, ai cittadini, alle bimbe e ai bimbi che stanno vivendo giorni di terribile sofferenza. Mandare un messaggio per quello che è possibile a chi costruisce ponti in queste ore che la pace è l'unica via percorribile. Bisogna ritrovare una strada di libertà e di democrazia. Bisogna che ognuno, esattamente come ieri, noi abbiamo voluto premiare Rondine, Cittadella della Pace, perché è un luogo di costruttori di pace, si sensibilizzino chiunque ha possibilità di scegliere per perseguire questa strada. E poi il messaggio che la Toscana continua a essere terra aperta ed accogliente, come sempre è stata nella sua storia, siamo pronti ad accogliere da subito i primi profughi. Lo faremo mandando anche un messaggio forte, che è quello di creare momenti di sensibilizzazione nelle scuole, coinvolgendo le ragazze e i ragazzi, perché senza la pace non c'è futuro per i nostri territori. Dalla Toscana non poteva non uscire un richiamo forte al sostegno e al rafforzamento di tutte le iniziative diplomatiche di contrasto alla continuazione del conflitto bellico. Questo richiamo viene anche a seguito di quello che è stato il messaggio la scorsa settimana lanciato dai Vescovi e dai sindaci del Mediterraneo, riuniti qui a Firenze. Oppure il messaggio che ci viene dai ragazzi e dai ragazze di Rondine, che nella Cittadella della Pace arrivano come nemici, imparano a gestire il conflitto e diventano operatori di pace. In questo momento in cui i falchi sembrano voler prevalere, ci vogliono molte più rondini. E poi il sostegno a tutte quelle sanzioni che l'Europa è stata capace, questa volta unitariamente, di combinare nei confronti del governo russo. Ora occorre aprire corridoi umanitari, occorre dare la disponibilità, come ha fatto con prontezza il Presidente Gianni per quanto riguarda l'accoglienza dei profughi. E occorre lavorare per promuovere la cultura della pace, soprattutto nei confronti dei ragazzi più giovani, quindi anche con il coinvolgimento del Parlamento degli studenti del Consiglio regionale. Io a titolo personale, anche rappresentanza del Consiglio regionale, ho voluto deporre un mazzo di fiori di fronte all'ambasciata dell'Ucraina, nei giorni scorsi, perché questa guerra, così feroce e così ingiusta, stava producendo dei morti anche civili e con una ferocia senza precedenti, che rimette le lancette indietro di tanti anni. E oggi però è importante, arriva un segnale forte dalla Toscana, in maniera unitaria, tutte le forze politiche votano un documento che condanna fortemente quanto la Russia sta facendo in termini militari, che mette in discussione il livello di sovranità e di autonomia di un popolo, di una democrazia che sta faticando ma che sta resistendo. Da parte nostra ovviamente il sostegno nei confronti del popolo ucraino, la disponibilità ad accogliere tutti coloro che riusciranno a fuggire i profughi, dare una forma di assistenza, di accoglienza e soprattutto una Toscana che grida con forza, che serve la linea diplomatica, che serve la pace, una Toscana che prova anche a raccontare quello che sta succedendo anche alle nuove generazioni, ai ragazzi che per la prima volta si trovano di fronte a una guerra che purtroppo viene comunicata costantemente sui social e ne deforma anche la rappresentazione tra chi vuole negarla e chi vuole enfatizzarla. Quindi un contesto al quale non eravamo abituati, che la Toscana prova a mettere un'argine cercando di dare seguito a quello che in questi giorni è avvenuto, essendo una terra di diritti, essendo una terra di pace. La nostra posizione è una posizione chiara, è una posizione di vicinanza all'Ucraina e ai cittadini ucraini e anche di vicinanza a tutti coloro che in Russia stanno manifestando contro la guerra e vengono arrestati, perché se per noi è qualcosa di normale andare a manifestare in questo momento, in Russia non lo è. Quindi quello che è avvenuto probabilmente nessuno se lo aspettava, certo ci sono delle colpe da riconoscere all'Occidente, anche agli Stati Uniti e anche all'Europa, che non dobbiamo tralasciare perché riteniamo che gli errori devono essere anche corretti poi in un futuro per cercare di fare in modo che le cose migliorino. La più grande colpa dell'Europa è stata quella di non avere una politica estera unitaria all'interno dei propri paesi e quindi questo ci rende deboli nelle trattative, ci rende deboli quando dobbiamo andare a cercare di placare alcune situazioni. Dovendo trovare un punto di diversificazione con le altre forze politiche, forse l'autocritica fatta all'Europa, perché non ho sentito da parte di nessuno un'autocritica doverosa nei confronti dell'Europa. Non possiamo far finta di pensare che il conflitto tra Russia e Ucraina nasca ieri, il conflitto nasce e affonda le radici nel recente passato, penso alle rivoluzioni colorate del 2014, ma non solo, e il vero grande assente in tutto questo è l'Europa, perché se uno prova ad andare a ritroso fino a quando, negli anni 90, dopo il crollo del muro di Berlino, dopo la fine dell'Unione Sovietica, l'Ucraina, insieme forse alle Repubbliche Baltiche, era tra gli Stati che più di ogni altro sognava finalmente il ricongiungimento di quelli che erano considerati fratelli separati al di là della cortina di ferro. E io credo che l'Europa occidentale, che avrebbe dovuto fare da traino per creare una vera identità europea, un vero Stato europeo in grado di contrapporsi economicamente, militarmente, culturalmente a chi stava fuori dai confini europei, non si sia mai realizzato questo processo. Noi siamo estremamente preoccupati di quello che è successo, siamo vicini al popolo ucraino e siamo vicini anche al popolo russo, che è colpito tanto quanto il popolo ucraino, perché in guerra non ci si va a cuore leggero. Sono due nazioni che non solo sono vicine, ma alcuni familiari stanno in Ucraina e i combattenti stanno in Russia. Abbiamo evidenziato come vi sia anche il fallimento della politica dell'Unione Europea. La politica dell'Unione Europea che non ha un contingente militare unitario, che non ha una politica di difesa unitaria, che non ha una politica economica unitaria, si parla tanto di Unione Europea ma ci unisce soltanto la moneta. Poi abbiamo la Francia che tratta i gasdotti da sola, abbiamo la Germania che ha concluso un proprio gasdotto, non ricordandoci che la politica energetica italiana dipende per il 60% dalla Russia, cioè dal gas che ci arriva dalla Russia. Quali saranno le ripercussioni per le famiglie e per le imprese italiane, già colpite dall'aumento del 50% del costo del gas e forse avranno le bollette nei prossimi mesi che saranno il 200% in più rispetto ai mesi precedenti. Ecco perché con forza chiediamo una politica unitaria dell'Europa e anche il fallimento dei servizi di intelligenza europei. Non si tiene in considerazione la geopolitica mondiale. Stiamo spingendo la Russia nelle mani della Cina. Forse il prossimo conflitto sarà proprio la Cina con Taiwan. Ecco, come non si fa a non capire che in un momento come questo sulla Russia doveva esserci un'attenzione diversa? La condanna verso questa aggressione incredibile nei confronti dell'Ucraina deve essere ed è stata unanime, ferma, solida e inflessibile. Ma dovrà essere declinata soprattutto in solidarietà e vicinanza a tutta la comunità ucraina, quella che ancora oggi si trova nel Paese Natale, in questa situazione incredibile per il nostro secolo, ma anche alla popolazione che risiede stabilmente in Italia e in Toscana. Una solidarietà anche morale e concreta. L'Istituto degli Innocenti di Firenze si sta già preparando per accogliere, grazie al Ministero degli Affari Esteri italiano e al Ministro Luigi Di Maio, si sta preparando ad accogliere i bambini che sono sempre le vittime incolpevoli più fragili di questi conflitti. Però questa solidarietà dovrà essere accompagnata anche da una riflessione seria di quelle che sono le dinamiche internazionali, in un ruolo più forte che deve essere invocato dall'Unione Europea, che deve avere una politica internazionale unita nei confronti di situazioni di questo genere. Dobbiamo continuare a ragionare in termini di diplomazia internazionale. Personalmente io credo che l'invio delle armi, prima ancora degli aiuti umanitari, non sia, anzi non deve essere una delle mosse strategiche della comunità internazionale nei confronti di questo conflitto. Non dobbiamo soltanto invocare la pace, noi dobbiamo produrla. La pace è qualcosa che va conquistato ogni singolo giorno. Credo, credo fermamente, che in questo momento la riflessione che debba essere fatta è quella del ruolo che la comunità internazionale deve avere. Le Nazioni Unite devono riuscire anche loro a fare una voce più forte nei confronti della Russia. È chiaro che in queste situazioni l'unità che tutto il Consiglio regionale dimostra, quindi la solidarietà al popolo ucraino e la condanna unanime di questa azione di guerra portata avanti dalla Russia, sono temi sui quali assolutamente non ci si può dividere. È chiaro che siamo di fronte a una situazione estremamente delicata, non sappiamo quelli che saranno gli sviluppi da qui a poche ore. Ci sono però anche dei contraccolpi che tutta questa situazione sta portando nel nostro sistema economico soprattutto. Questa mattina ho tenuto a precisare come, pur di fronte a gesti assolutamente condivisibili di condanna di tutta questa vicenda e quindi della nostra massima aspirazione a che ritorni la pacificazione in quell'area, noi rischiamo di subire un contraccolpo economico rilevantissimo. È il momento che anche la Regione Soscana si faccia sentire, convocando, credo, il prima possibile, almeno lo auspico e lo riterrei opportuno, tutte le associazioni, i sindacati per fare un fronte comune affinché veramente si pongano in essere tutte quelle azioni e quelle iniziative che in qualche modo possano fare anche da contraccolpo a una situazione che sul fronte dell'import, dell'export, ma anche sul rincaro delle materie prime, delle fonti d'energia che già nei mesi passati hanno fatto sentire il loro carico su imprese, aziende e anche sui cittadini, ecco, questi sono temi che credo dovranno comunque sia essere affrontati. Grazie a tutti!